Il giornalista Paolo Ziliani, ultimamente molto molto attivo nella narrazione delle questioni giudiziarie che riguardano in particolare la Juventus, molto molto attivo su Twitter e anche giornalista per Il Fatto Quotidiano, dopo aver rivolto un appello ai suoi oltre 60.000 followers proprio sulla piattaforma Twitter per avere maggior sostegno in questa sua attività gratuita di informazione con tanti contenuti, spesso controversi con la proposta di aprire un canale YouTube per poter monetizzare questa sua attività appunto ed aver successivamente modificato la proposta verso un canale Telegram sempre per abbonati dietro pagamento per lasciare traccia scritta che è più facile e più comprensibile rispetto ai video su YouTube, ha lanciato un altro appello e ha sostanzialmente chiuso le sue pubblicazioni su Twitter denunciando anche minacce e ritorsioni oltre che a se stesso ai suoi familiari per questa sua attività di informazione e di giornalismo. Si può pensare quello che si vuole e si pensa letteralmente quello che si vuole, la qualunque nei confronti di Paolo Ziliani, si pensa molto molto male in ambienti giuventini, viene sostanzialmente odiato perché viene ritenuto, non giudico se ha torto o ha ragione, un odiatore lui per primo, un giornalista che diffonde odio o che aizza comunque ad una certa accredine e aggressività nei confronti della Juventus, sostanzialmente un giornalista anti-juventino. Ripeto, non giudico, ognuno ha la sua opinione basata sull'osservazione dei fatti, ma credo che sia assolutamente inaccettabile anche per il peggior anti-qualcosa militante dover sospendere la propria attività per aver subito minacce. Naturalmente questa è la versione dei fatti di Ziliani, non abbiamo conferme, ma non possiamo certo pensare che sia tutta un'invenzione, sarebbe gravissimo aver inventato delle minacce ai propri familiari per giustificare un'uscita di scena. Quindi personalmente credo fermamente che sia andata proprio così, non è neanche la prima volta che Ziliani denuncia di essere stato vittima di certi attacchi. Come era già successo in precedenza, quando nel 2021, se non sbaglio, aveva proprio chiuso ancora una volta il suo profilo Twitter, o meglio aveva smesso di twittare, riprendendo solo a novembre, fine novembre 2022, proprio dopo le dimissioni del CDA della Juventus e del presidente Agnelli. Quindi di fronte ad una cosa del genere, anche gli juventini che più odiano Ziliani e che più lo ritengono anti-juventino, dovrebbero stringersi a suo fianco, attorno a lui, o comunque dovrebbero provare un po' di imbarazzo, non perché responsabili di tutto questo ci mancherebbe, ma per la situazione che si crea. Perché è davvero inaccettabile che in Italia un giornalista debba smettere di fare il suo lavoro, che conduce comunque nella sua autonomia, perché qualcuno l'ha minacciato. Cioè capite di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa gravissima. E parliamo anche di minacce alla famiglia, che è anche più meschina come cosa. La cosa dovrebbe spaventare tutti, perché non è soltanto Ziliani, riguarda chiunque. Chiunque evidentemente avesse fatto o facesse quello che fa Ziliani, cioè parlare tutti i giorni, riportando anche fatti, al di là poi dello stile che può piacere o meno, al di là delle opinioni, potrebbe trovarsi a subire queste ripercussioni. La lesione alla libertà di uno è la lesione alla libertà di tutti, perché la libertà è una sola. E d'altra parte, se qualcuno ha provato a mettere a rischio la libertà, o ha messo a rischio la libertà di Paolo Ziliani, chi è stato e da quale parte proviene, e chi dobbiamo temere, in questo senso, che possa ledere la nostra libertà. Capite che in questo caso il nemico smette di essere quello che attacca la propria squadra del cuore, ma inizia a essere quello che attacca la libertà di tutti. E' inutile dire che si tratta di metodi chiaramente illegali, e che quindi andrebbero condannati a prescindere. Ma, sinceramente, ad oggi non ho notato neanche un bricelo di solidarietà verso Ziliani, da parte di quegli ambienti giuventini che avevano deriso e screditato l'iniziativa e la proposta dello stesso Ziliani di aprirsi agli abbonamenti per avere sostentamento nella sua attività. E parliamo di ambienti giuventini che il più delle volte vanno avanti proprio con abbonamenti o con altre fonti di sovvenzioni del pubblico, quindi libere e indipendenti, per la creazione dei loro contenuti, che non si sa in base a quale principio vengono ritenuti migliori e superiori di quelli di Ziliani. Tenendo conto che anche questi ambienti non poche volte hanno contribuito a diffondere odio, nei confronti anche di altre squadre, nei confronti anche di altre tifoserie, e nei confronti di certi giornalisti. In questo senso ci si guarda troppo poco allo specchio e si punta troppo il dito verso qualcun altro. E questa mancanza di solidarietà forse denota e denuncia un minimo di imbarazzo per una minima consapevolezza di colpevolezza. Ma se non c'è solidarietà, non c'è vergogna, non c'è assunzione di responsabilità, e quindi si andrà avanti come prima con la faccia immacolata e con la reputazione da Angioletti e Santarellini. Mentre la libertà di informazione e la libertà di stampa, nell'interesse della collettività, subisce l'ennesimo duro colpo nel silenzio generale. Grazie.